Insieme a Tavuglia e Acqualagna erano già stati in zona arancione rafforzato da mercoledì 21 aprile fino a domenica scorsa, poi due giorni in zona gialla e un'ulteriore doccia gelata, una seconda ordinanza firmata dal governatore Francesco Acquaroli, con la quale ha stabilito che da oggi a martedì 4 maggio compreso, Montelabate, Vallefoglie, Cerreto Desi, devono tornare in micro zona rossa. In questi tre comuni, due nella provincia pesarese e uno nell'Anconetano, persiste infatti un'incidenza superiore a 250 positivi settimanali su 100.000 abitanti. Varranno dunque tutte le misure previste per le zone arancioni, ma all'interno del territorio comunale saranno consentiti gli spostamenti nei soli casi di salute, studio, lavoro e comprovate necessità, come previsto nelle zone rosse. La decisione però non è piaciuta a tanti cittadini e ai sindaci che ritengono il provvedimento insensato. Io ho scritto una lettera ieri al Presidente della Giunta regionale, penso che non abbia senso, perché i dati oltretutto non sono aumentati di contagi, che i conti si fanno in un'area omogenea, quindi quella del compressorio pesarese, dell'Unione dei Comuni, dei Sette Comuni, o a livello provinciale e che spero, e sono abbastanza convinto, che si possa revocare l'ordinanza. Anzi, prima si revoca meglio è, meglio se non si faceva per niente, perché ha creato non poche difficoltà nell'attività economica e produttiva, quando non c'è la necessità, perché qui non c'è nessuna emergenza, di fare, nel momento in cui si va in zona gialla, delle forzature che spero vengano superate. Ucchielli poi, dopo la lettera inviata all'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, è tornato a ribadire l'importanza di aprire un punto vaccinale nell'ex mensa dell'area industriale di Talacchio, una struttura che ha spazi interni adeguati ed un grande parcheggio, nella quale sono già stati eseguiti dei sopralluoghi, da parte dell'Asur, che ha dato il via libera dal punto di vista tecnico a quel sito. Ora la decisione definitiva spetta alla Regione. Io nel colloquio che ho avuto con il Presidente della Giunta regionale ieri gli ho ribadito che far spostare 50.000 persone dalla piazza di Montecchio, tutta quest'area, a Pesaro è un errore, quindi spero che quel luogo che è bellissimo, che è a totale disposizione della Regione, che è di proprietà del Comune, che ha un parcheggio immenso, è il luogo ideale per fare i vaccini giorno e notte, nel giro di un mese o due possono fare tutti i vaccini che vogliono, perché quello è un luogo idoneo, ideale, perfetto per evitare spostamenti che, come si sa, creano disagio, creano incidenti, creano inquinamento, quindi spero che l'accogliano. Grazie a tutti.